Napoli. Romina Carrisi la figlia di Albano e Romina Power, si concede una cena in una pizzeria molto celebre della città partenopea. Un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Romina Carrisi, figlia dei celebri cantanti Albano e Romina Power, è un nome che ha lasciato il segno nell'industria dell'intrattenimento italiano. Famosa sin dalla nascita, la giovane ha affrontato le sfide e le opportunità che derivano da un'eredità così prestigiosa, essendo cresciuta in una famiglia in cui la musica e lo spettacolo erano all'ordine del giorno. Suo padre e sua madre, sono stati tra i più famosi cantanti italiani degli anni 70 e 80, e hanno conquistato un pubblico internazionale. L'ultimo genita della nota coppia, così ha inevitabilmente ereditato il talento musicale dai suoi genitori, ma ha anche cercato di forgiare la sua strada nel mondo televisivo. Uno degli aspetti più noti della vita di Romina Carrisi, è stata la sua partecipazione a Oggi e un altro giorno, il talk show di Serena Bortone. In questo contesto, ha dimostrato di avere sempre un punto di vista interessante da raccontare, attirando l'attenzione del pubblico. Questa esperienza le ha aperto nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. Dal punto di vista sentimentale, la giovane erede di Albano sta vivendo un periodo altrettanto roseo. È incinta del suo primo figlio che dovrebbe nascere all'inizio del nuovo anno. Lei e il suo compagno Stefano Rastrelli non possono che essere emozionati per questa esperienza, come si è evinto da una recente partecipazione della figlia d'arte a Verissimo, programma della conduttrice Silvia Toffanin. In attesa del bambino in arrivo, la giovane Carrisi si gode una bella pizza in uno dei locali più famoso di Napoli, Concettina ai Tressanti. Napoli. Romina Carrisi sceglie Concettina ai Tressanti per una pizza d'eccellenza. Come dimostrano delle recenti storie Instagram, Romina Carrisi ha scelto a Napoli Concettina ai Tressanti, come pizzeria dove trascorrere la serata in compagnia di amici, assistendo anche a un meraviglioso spettacolo pirotecnico sulla terrazza del locale, sul finire della cena. I. N. Effetti Concettina ai Tressanti, è un nome che fa venire la colina in bocca a chiunque abbia l'opportunità di assaporare la sua cucina. Questo ristorante rappresenta un'eccellenza culinaria che si fonde con la tradizione partenopea, offrendo un'esperienza gastronomica straordinaria. Il nome del ristorante, è un omaggio a tre dei santi più importanti di Napoli, San Vincenzo, Sant'Alfonso Maria de Liguori, e Sant'Anna. Tale scelta denota un profondo rispetto per le radici culturali e religiose della città, elementi che spesso si intrecciano nella cucina napoletana. La specialità principale del posto è la pizza, e in particolare la margherita. Essa è rinomata per la sua semplicità e autenticità. Un impasto soffice e leggero, pomodoro fresco, mozzarella di bufala, basilico e olio d'oliva di alta qualità.